Un cellulare che squilla a vuoto chissà dove e chissà per quanto tempo ancora la batteria permetterà agli inquirenti il lavoro di localizzazione del dispositivo. Il telefono appartiene a Giovanni Succi, pensionato di 68 anni di Sant'Arcangelo di Romagna che dal pomeriggio di mercoledì scorso risulta disperso. Quel giorno si era allontanato da casa con i suoi cani per andare a caccia. Dopo quella uscita i suoi cari non ne hanno più avuto notizia. Lo si cerca disperatamente a Poggio Torriana, poco distante da casa sua dove si pensa che l'uomo si sia diretto. L'ultima volta è stato visto mercoledì alle ore 17. Solo la sua auto è stata ritrovata. Elicotteri e sommozzatori, unità cinofile, carabinieri, vigili del fuoco e volontari tutti impegnati nella ricerca del pensionato. Una delle ipotesi è che possa essere caduto da qualche parte. Nella zona ci sono alcuni laghi artificiali. Intanto dalla Toscana sono giunti i carabinieri delle ROS dotati di un'attrezzatura che permette di captare il segnale del cellulare ancora acceso, lo stesso utilizzato per dare la caccia a Igor il russo. Ancora però il radar non ha dato alcun esito. Intanto il tempo passa. Chi lo conosce definisce Succi un cacciatore esperto. Resta da capire quale incidente possa averlo colpito. Intanto le ricerche proseguono senza sosta.